E se no, attraverso NT, 11 febbraio 2017, adenina. Quando io ti parlo di legami molecolari, a cosa ti viene in mente? I legami molecolari sono di vario tipo e sono dati... Le quattro basi come agiscono sui vari elementi del DNA? Per esempio l'atenina, cosa rappresenta per te? Ah, questa è una domanda... Vero? Dovresti essere un biologo oppure un ricercatore del DNA, vero? Non ti saprei proprio dire, so solo che la diversa composizione, cioè alternanza delle quattro basi, che è moltiplicato poi per un numero già elevato, da una serie enorme di variabili... Variabili... Esattamente, esattamente, e quella che voi chiamate catena, non è altro che una continua simbiosi tra elementi diversi... Sì... Ecco, fin qui ci siamo? Ci siamo perfettamente... Anche per te Piero, ci siamo? Sì, sì... Quindi, esattamente, cosa vorreste sapere?